Buonasera a tutti, sono Luca Palombaro, olivicoltore del lago Trasimeno, Umbria, alta Umbria. Sono al capo di un'azienda di famiglia che ha 100 anni di storia e da 100 anni produce olio, questa vergine oliva, attualmente di due tipologie, un fruttato intenso chiamato roncone e un fruttato reggino chiamato berfiore. È un momento difficile per tutti quanti, c'è questa pandemia, ma finirà. Venite a trovarci, venite a trovare l'Umbria, venite a provare i nostri prodotti tipici, il mio olio, a vedere il fruttoio secolare con la ziraia più antica dell'Italia. Vi aspettiamo perché siamo tutti pronti per ripartire di nuovo, anche perché l'agricoltura non si è fermata, ma per legge può e deve continuare ad andare avanti. In bocca al lupo a tutti quanti, noi siamo qua. In bocca al lupo a tutti quanti, noi siamo qua.